Sì, grazie, signor Presidente. Ma io volevo sottolineare un dato che... Questo Paese che per la preadesione negli ultimi anni ha preso dall'Europa 10 miliardi di euro, entro il 2020 ne prenderà ancora 4 miliardi e 6, e il risultato qual è? Che sono il 90% islamici, che oggi hanno abbattuto un aereo russo, un aereo russo solo perché per 17 secondi sono andati nel loro spazio aereo. Ma questi vogliono venire in Europa? Non possono venire in Europa. Questa bandiera, no Europa, la Turchia non può entrare in Europa perché è una vergogna. La Turchia rimanga dov'è? Perché è amica degli terroristi islamici. Questo è quello che è accaduto oggi con la Russia e si dovrebbero vergognare. Invece di dare i soldi ai turchi, diamo i soldi alle nostre aziende o alla nostra gente, non ai turchi. Perché questa è una cosa vergognosa, perché noi diamo i soldi a chi non ama l'Europa e chi aiuta i terroristi islamici.